hi guys io sono franco versa e benvenuti in questo tutorial per da vinci resolver 16 in questo video volevo farvi vedere la cat page qui ci troviamo in da vinci resolve 16 la beta 2 però questa pagina è stata introdotta già dalla prima versione di da vinci resolve 16 che cos'è la cat page e a cosa serve noi siamo abituati adesso io mi trovo nell'area di edit e qua possiamo montare le nostre clip con le tracce normali audio video eccetera la cat page è un pochino riassume quello che io sono sempre andato a dire cioè programmi tanto complessi complicano la vita cosa vuol dire che se io devo cercare delle funzioni particolari all'interno di menu sotto menu e blam 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 vuol dire che sto perdendo tempo e perdere tempo per chi lavora si trasforma in una perdita economica perché fare un lavoro in minor tempo ovviamente è un guadagno sia in questione di tempo di una persona che non passa seduto avanti computer e nello stesso tempo anche proprio monetario perché magari nello stesso tempo posso fare più lavori o magari sfruttare il tempo che avanza per farli meglio nell'area di edit normale siamo abituati o al doppio monitor o al monitor singolo comunque possiamo visionare la clip in preview e poi deciso in out trascinare la clip in timeline oppure io adesso appositamente trascino più clip e mi vedo costretto ad esempio a dover scorrere sulla timeline per portarmi su un punto se voglio fare una disolenza qualcosa qua andare a visionare questa zona mi tocca andare allargare la zona e poi qua posso procedere a mettere l'effetto a guardare e quindi se io adesso devo rispostarmi all'inizio o mi sposto facendo correre qui e stando attento alle clip che passano oppure devo riallargare eccetera eccetera se io ad esempio voglio copiare questa clip anche in fondo mi tocca copiare la clip e poi spostarmi in fondo e andare a incollare la clip ci spostiamo in questa nuova cat page che è questa qui infatti vedete che è rappresentata da un'icona con delle freccette dietro che rappresentano la velocità e ci troviamo in un'area di lavoro dove noi abbiamo a disposizione tutto quello che servirà per fare un montaggio veloce da come sono posizionato il media pool con tutte le anteprime le nostre clip a monitor e la timeline che presenta una differenza cioè non è più la timeline dove io sposto il cursore lungo le mie tracce ma il cursore resta fermo centrale e io vado a spostare la mia timeline in riferimento al cursore in più ho questa rappresentazione della timeline totale di tutte le clip che ho inserito in traccia e vedete un altro cursore con il quale posso spostarmi invece sulla timeline chiamiamola totale che è già zoomata su tutte le nostre clip per cui se io voglio andare alla fine semplicemente porterò questo cursore alla fine e posso come vedete eseguire dei salti questo mi permette di ad esempio se io voglio copiare questa clip posso copiare la clip e anche fare un drag and drop vedete trascinarla direttamente alla fine cioè non è una rappresentazione come c'è anche in altri programmi minori mi verrebbe da dire dove ho solo la visualizzazione ma questa anteprima mi permette proprio vedete di poter lavorare e quindi di utilizzare anche più tracce e anche di sovrapporre le clip allora pensate la velocità di esecuzione perché io posso saltare da un punto all'altro del montaggio e fare i mi trim eccetera ovviamente la novità non è solo questa ci portiamo alla fine e vi faccio vedere come lavora il singolo monitor cioè noi abbiamo qua tutte le nostre clip se facciamo un doppio clic su questa clip si aprirà nel monitor in preview infatti qua in alto abbiamo altre icone che rappresentano il source clip cioè il preview delle nostre clip ma come avete visto non serve nemmeno cliccare l'icona basta semplicemente fare un doppio clic sul clip che ci interessa visionare e qui avremo appunto la possibilità di visionare questa clip e direttamente qui assegnare in e out come facciamo anche in altri montaggi un'altra cosa che ci facilita è che il cursore non deve essere per forza posizionato alla fine della clip quando voglio andargli inserire qualcosa dopo se ad esempio vogliamo inserire una clip tra queste due andiamo a posizionarci qui mettiamo che siamo anche col cursore così in mezzo ecco qua vedete la fine io adesso vado a inserire il topolino così facciamo una prova doppio clic sul topolino vado a scegliermi il mio in il mio out e poi o premo l'icona qua che è lo smart insert che mi butta giù in timeline il topolino oppure premo da tastiera lo shortcut f9 ecco purtroppo qua non sono stati segnati gli shortcut ma diciamo che riprendono quelli che vedete nella zona di edit per cui qua se voi andate e state fermi un pochino vedete insert clip f9 qua probabilmente sono ancora in fase di lavoro o hanno pensato che qualcuno lo sapeva già quindi se volete inserire f9 io premo f9 e vedete che topolino è stato inserito dopo la chiesa anche se il cursore in realtà era qua questo è stato fatto apposta perché così è più veloce io mi sposto voglio inserire una clip dopo questa torre non serve che io sia centrale vado a scegliermi un'altra clip questa è montagna adesso sto facendo a caso vado a eseguire mark in mark out f9 e ho già montato la mia clip un'altra cosa è come avete visto quando io vado a portare i cursori in questa zona centrale dove c'è una maniglia su ogni clip posso far scivolare la clip all'interno dello spazio predefinito e quindi fare un'operazione di muovere il film all'interno come vedete e qua sul monitor ho il trimmeraggio che sto facendo quindi posso andare a vedere se devo prendere la ripresa prima e in uscita ovviamente la vado a spostare tutta nei tempi ovviamente le altre modalità di inserimento mi aiutano come ad esempio append va a buttare la clip alla fine del montaggio e quindi se io voglio continuare a fare montaggio buttando clip alla fine non farò altro che selezionare la mia clip e premere avete visto che è possibile anche un drag and drop direttamente dall'area del media pool quindi ad esempio da qua vado a prendere questo orologio posso trascinarlo sia qui che qui in timeline direttamente e verrà aggiunto un'altra cosa rispetto all'area di edit normale è che se io vado a fare un trim e vado a prendere ad esempio questa clip qui vedete che automaticamente mi ritrovo anche nell'area monitor il trimmeraggio quindi posso eseguire o il trimmeraggio qua e intanto guardare sul monitor di quanto sto spostando e cosa sta succedendo oppure intervenire direttamente da quest'area spostandomi qua e spostando le due clip prima e dopo un'altra cosa interessante è che sul cursore se premiamo il tasto destro ci appare già questa ruota diciamo del cut non so come si chiami tecnicamente come l'abbiano voluto chiamare e con la quale posso fare il tasto sinistro e effettuare un taglio sul mio filmato posso andare anche a selezionare tutte le parti alla destra del puntatore o tutte le parti a sinistra del puntatore ovviamente tutte le operazioni che faccio nella traccia in timeline le posso fare anche in questa traccia totale quindi se io voglio sottolineare delle clip e andarle a tagliare avete visto che io ho fatto un'operazione senza nemmeno muovermi dall'area della timeline quindi se io voglio andare a cancellare queste le vado a cancellare vado ad esempio a sottolineare queste qui e riavvicinarle vedete quanto più pratico è e risulta più veloce abbiamo visto la possibilità appunto di passare su source clip o timeline per vedere il preview del master diciamo del timeline o il preview dei nostri sorgenti però l'area centrale cos'è questa è una cosa un po' particolare molto interessante questa qua è source tape cioè essendo che noi abbiamo tante clip spezzettate ad esempio può succedere di aver bisogno durante il montaggio di vedere le clip in maniera continuata per visionare il materiale prima di andare a montarlo cliccando questa praticamente abbiamo a disposizione qui tutte le clip da quella selezionata in poi cioè se io vado a cliccare la prima faccio un doppio clic e passo qui in quest'area adesso avrò in continuo tutte le mie clip andiamo a vedere e vedete che è appena saltato alla clip 2 io vado avanti e salta alla clip che siamo ci troviamo qui e quindi ho possibilità di visionare tutto il materiale in più anche ovviamente andarlo a marcare mark in e mark out e portarlo e questo mi facilita enormemente perché è come avessi un vecchio unica clip di una videocassetta per dire dove posso andare a selezionare da tutto il mio materiale inoltre se io faccio un play e ho un avanzamento a velocità normale delle clip ma hanno pensato che io potessi avere anche il bisogno di vedere le clip velocemente ma senza trascinare il cursore che magari non mi permette di vederle in maniera fluida allora è stato aggiunto questo fast review che premuto scorre velocemente tra tutte le clip in velocità 2x e fa vedere tutte le clip in sequenza veloce un'altra cosa che potrebbe facilitare sempre nel montaggio nelle identificazioni di materiale è quella di poter sottolineare delle clip e assegnare loro un colore ad esempio mettiamo arancione e come vedete vengono evidenziate sia sulla timeline totale e quindi mi permettono di spostarmi rapidamente in quella zona perché io se vado ad esempio adesso a cliccare su un altro clip e assegnare un altro colore ecco vedete come salta all'occhio subito dove è posizionata la prima clip o le altre clip e questo può servirci molto in montaggio per andare a identificare delle zone dove magari stiamo lavorando o dove dobbiamo fare determinate operazioni un'altra cosa che ci facilita quando magari stiamo facendo dei montaggi dove c'è una persona che parla o qualsiasi altra cosa io adesso faccio l'esempio un campo largo con un presentatore e abbiamo fatto la ripresa in 4k e questo ci permette ovviamente di croppare la ripresa e magari andare più in primo piano sul presentatore cosa succede che io quando clicco qua e scelgo da ad esempio un topolino faccio finta che sia il mio presentatore questo pezzetto di clip io ho la possibilità di fare un cross up cioè vado a stringere e come vedete topolino è in primo piano e in questa maniera ho la possibilità di fare il passaggio da campo stretto a campo largo semplicemente utilizzando questa funzione se uno dice ma è troppo chiuso è tagliato o sbagliato è possibile entrare in un'area che controlla tutta l'immagine la cosa bella come vi avevo detto all'inizio è che abbiamo proprio tutto qua se andiamo a cliccare questa icona ora vi faccio vedere su un altro pezzo normale ecco questi sono l'area che viene segnata della mia clip con il quale posso andare anche a restringere la clip o zoomarla e da qua posso andare anche a ruotare la mia immagine quindi pensate che veloci da fare ad esempio dei picture in picture ecco ad esempio per farvi vedere ho messo un'immagine sotto vi faccio vedere topolino in picture in picture sopra in più sempre da quest'area si possono fare tantissime cose flippare l'immagine cioè abbiamo i controlli principali sull'immagine il crop quindi se io voglio tagliare questa zona posso andare a aumentare la velocità della mia clip e così via una serie di altri controlli tra l'altro ho anche direttamente la possibilità di cliccare qua e decidere la fusione dei due video ad esempio add e va a aggiungerla color e va a fare una somma di colori color bar che va a bruciare e via via vari metodi di somma delle immagini direttamente appunto da quest'area dove possiamo decidere anche l'opacità della nostra immagine con quest'altra funzione possiamo andare a eseguire uno zoom sulle immagini assegnandolo tramite delle icone già configurate o creandolo noi trascinando questi rettangoli e per cui vedete possiamo fare uno zoom ed infine visto che li ho detti tutti con la telecamera possiamo fare o la stabilizzazione o la correzione delle lenti questo è solo nella versione studio mentre la parte di stabilizzazione funziona è sufficiente cliccare stabilize e anche lo fa anche molto bene viene stabilizzata molto bene dopo l'analisi sempre qua in alto troviamo altre icone centrali con le quali si può fare un taglio aggiungere una dissolvenza ad esempio se voglio aggiungere una dissolvenza tra questi due è sufficiente cliccare qua e dissolvenza o la stessa cosa spostarsi in timeline e aggiungere appunto la dissolvenza pensate alla velocità c'è anche uno smooth cut che può servire ad esempio quando in un'intervista continuate a effettuare dei tagli per correggere l'audio ma viene tagliato anche il video e è una specie di morphing se lo usate tra riprese come in questo caso completamente diverse e non è la stessa immagine otterrete appunto vedete una specie di morphing ad esempio io qua su questa persona che parla ho fatto un taglio proprio di discorso ho preso una prima parte ho tagliato via tutta un'altra e sono andata alla fine se lo fate piccola deve essere ovviamente una transizione piccola e che non va a coinvolgere l'audio sull'audio vi conviene fare un taglionetto però guardate non si vede assolutamente nulla perché in automatico il programma fa il morphing con la faccia e quindi non si vede il taglio dell'intervista probabilmente chi usa DaVinci tutte queste cose le sa già però qua in alto sempre sul media pool troviamo un'altra maniera di rappresentare le clip abbiamo la classica con le tumbinas poi i dettagli dei file e quest'altra che è nuova dove abbiamo praticamente del film strip della clip in questa maniera possiamo vedere cosa è contenuto in quelle clip e ovviamente con un doppio clip ce lo portiamo nell'area di lavoro ma non finisce qui ovviamente da quest'area possiamo veramente fare tutto perché abbiamo accesso alle transizioni ai titoli agli effetti quindi se io vado su titolo mi è possibile direttamente da qua trascinare o sempre nel quest'area totale ho nella mia timeline una titolazione e ecco qua la mia titolazione inserita sopra in linea di montaggio oppure andiamo a fare un effetto vado a tirare uno zoom blur proviamo a tirarlo direttamente in quest'area e come vedete è già inserito tra l'altro sempre da qua possiamo entrare nell'inspect area sempre cliccando qua sul tool abbiamo possibilità di cliccare questa icona che appare solo quando inseriamo gli effetti e che ci apre appunto l'inspector e quindi da qua possiamo andare a variare il nostro effetto vedete come è tutto ottimizzato in funzione che da un'unica grande area di lavoro si possa accedere a tutte le aree velocemente senza dover entrare in pannelli o saltare da una parte all'altra tant'è che alla fine del lavoro se il lavoro già va bene così ricordatevi che questo è un'area di lavoro veloce che quindi poi si può affinare il lavoro adesso vi faccio vedere come ma da qua possiamo decidere la risoluzione del nostro lavoro e avere un quick export dove andare a esportare le immagini o per youtube vimeo o nel nostro settaggio invece se il lavoro andrà affinato possiamo saltare tranquillamente da questa cat page alla area di editing e quindi ritrovare il nostro lavoro come siamo abituati nella timeline normale e poterlo andare a rielaborare ulteriormente bene questa era solo una recensione veloce di questa area questa nuova area che andrà a ottimizzare il lavoro per chi appunto deve farlo velocemente o magari anche semplicemente per poi andarlo a elaborare meglio nella normale area di edit lasciate un bel like a questo video iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti e commentate per dirmi cosa ne pensate ovviamente le novità sono tantissime e variano anche dalla versione gratuita a quella a pagamento ciao e al prossimo tutorial è Grazie a tutti.